Ciao a tutti, finalmente! Dopo tanto tempo parlo di nuovo davanti alla videocamera E ogni volta che la prendo, non lo so, sono sempre un po' impacciata all'inizio Quindi 3000 volte ho detto ciao a tutte, ciao a tutte, ciao a tutte La terza è quella buona, si dice, quindi basta, lascio questa Video Outfit, questa volta Video Outfit in collaborazione con una bellissima ragazza Si chiama Beauty and Makeup 99 Come al solito vi lascio il link al suo canale sotto nell'info box Ho una ragazza veramente bellissima, due occhi bellissimi Andatela a visitare e abbiamo deciso appunto di fare in questa collaborazione Outfit Lay on Makeup per la scuola Intanto sbatte tutto Fantastico, ci è girato il vento Ho realizzato un outfit semplice, comodo e carino per tutte le ragazze che mi seguono, che vanno appunto a scuola Io l'ho finita da un bel pezzo ma anche se mi piacerebbe ritornare Comunque, vando alle ciance, io spero veramente che questo video outfit vi piaccia Fatemi sapere che giorno iniziate la scuola Se volete anche un make up per il primo giorno di scuola vi basterà spollicciare il video Così vediamo quante... Grazie 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 Grazie